Oggi dobbiamo fare parecchi esercizi non tutti sulle successioni, anzi il primo che faremo non riguarda la successione, il primo che faremo è una pendenza che è rimasta indietro che è la dimostrazione per l'induzione di questa formula, allora io devo fare A più B le vado ad N, questa formula ovviamente vale N, voglio fare la potenza ennesima di una somma di due termini e quando la vado a fare mi viene una sommatoria di tanti termini, in particolare mi vengono tutti i termini del tipo A alla H B alla N meno H e il coefficiente davanti viene il coefficiente di combinazione di N elementi ad H ad H che vi ricordo CnH cioè N su H è definito come N fattoriale frasto H fattoriale per N meno H, facciamo un esempio se N uguale 2, qua non c'è scritto altro che A più B al quadrato è uguale, allora se ci metto prima 0, 2 su 0 fa 1, quindi viene A alla 0 per B alla 2 per B alla 2, poi viene A alla 1 per B alla 1 per B alla 2, ma 2 su 1 fa 2, poi 2 su 2 per il coefficiente di combinazione fa 1, poi viene A alla 1 per B alla 1 per B alla 3, poi viene A quadro per B alla 3, se N uguale a 3, A più B elevato alla terza fa B cubo più 3 A di quadro più 3 A quadro di B più A quadro, quindi viene esattamente queste due formule, queste due formule già le conoscete, il quadrato di un binomio e il cubo di un binomio già le conoscete, però viene, diciamo, in questa sommatoria ovviamente è scritto al contrario come si dimostra, facciamo questa cosa perché ogni tanto poi serve, servirà anche negli esercizi che andremo a sviluppare, allora come si dimostra questa forma, questa va a dimostrare, allora si dimostra per induzione, per induzione su N, allora se N uguale 1, 2 o 3 potete pure verificarla a mano, si può fare verifica diretta, cosa succede? Io prendo A più B per A più B, allora quanto fa? A per A fa A quadro, A per B fa A B, B per A fa di nuovo A B, quindi 2 A B, poi B per B B, quindi è facile, diciamo, fino a quando N è basso si sviluppa il prodotto e la verifica si fa direttamente. Andiamo a vedere che il passo induttivo, cioè che il PDN, qual è il PDN? Nella PDN l'affermazione questa formula è vera per un certo ente, PDN implica PDN2, questa è una dimostrazione che quando abbiamo fatto le cose per induzione non abbiamo svolto, però la svolgiamo adesso anche se, perché è una cosa a metà da una dimostrazione di un esercizio. Allora, come funziona? Io posso scrivere A più B elevato alla N più 1, lo posso scrivere come A più B per A più B elevato alla N, questo è ovvio perché per le proprietà delle potenti. A questo punto PDN è vera, significa che io ho la fortuna per N, la posso sfruttare, quindi posso scrivere che qua mi viene A più B che moltiplica sommatoria per A che va da 0 a N, N H per A elevato ad A per B elevato alla N. Adesso ad opera la proprietà distributiva della applicazione rispetto alla somma, quindi qua mi viene, quando moltiplico per A mi viene somma per H che va da 0 a N, N H, A alla H più 1 per B alla N meno H, più la somma per H che va da 0 a N, N H, A alla H, B alla N più 1 meno H. Quindi come vedete, quando moltiplico per A, ho la stessa zona di prima ma con l'esponente di A aumentato di più, quando moltiplico per B, ovviamente aumenta di più con l'esponente di B e in mezzo c'è di più, uguale, continuo sull'altra lavagna, ecco, adesso qui ho un problema, perché qui le potenze di A e di B non sono allineate, cioè se andate a fare il caso, la somma di questi due esponenti, qua sembra N più 1, H più 1 più N meno H fa N più 1, H più N più 1 meno H fa N più 1, quindi questi sono tutti i monomi di grado N più 1, però non sono allineati, cioè quando H è uguale a 5, per esempio qua mi viene A alla 6, B alla N meno 6, qua mi viene A alla 5, B alla N più 1 meno 1. Allora, per poterli allineare, io devo cambiare, devo spostare, devo shiftare H in una delle due serie, cioè per esempio posso porre H più 1 uguale K nella prima sommatoria, quindi cosa faccio? La prima sommatoria diventa somma per K che va da 1 a N più 1, io cosa ho fatto? Ho posto K uguale H più 1, quindi H è uguale a K meno 1, quindi N su H adesso diventerà N su K meno 1, poi qua verrà A alla K, perché H più 1 valeva K, B, B era alla N meno K, quindi B diventa, era N meno H, quindi diventa N più 1 meno K, perché se andare a sostituire chi è K, N più 1 meno H più 1, 1 meno H più 1, 1 meno 1 si toglie, viene N meno A, come finito. L'altra sommatoria non la tocco, quindi l'altra sommatoria diventa, rimane, sommatoria per H che va da 0 fino ad N, NH, A alla H di alla N più 1 meno H. Adesso la cosa da capire, quindi questo mi è servito a riallineare, vedete adesso le potenze sono allineate, hanno la stessa espressione formale, però uno dice, vabbè ma questo è K e quella è H, e qual è il problema? Io K adesso lo richiamo H, quindi per quale motivo io posso richiamarlo H, lo posso richiamare H perché in una sommatoria, l'indice di sommatoria si dice una variabile muta, cioè o la chiamo K, qua ci metto K, o la chiamo H, qua ci metto H, o la chiamo J, qua ci metto J, l'importante è che J sia una variabile intera che vale da 1 a N più, chiaro? Cioè, là c'è scritto, diciamo, scrivere tutti gli addendi quando assegna a K i valori che vanno da 1 fino ad N più, se invece di K lo chiamo H, non cambia nulla, ok? Quindi io posso descrivere questa somma in questo modo, allora, posso fare Somma per H che va da 1 fino a N più 1 di N H meno 1 per A alla H di alla N più 1 meno H, ok? Va bene. Ora, ci sono altri due piccoli problemi, Primo problema, uno dice, ma tu qua mi vuoi fregare, prima H più 1 l'hai chiamato K, ora lo richiami H, quindi H più 1 qua da H è assurdo, no, non è assurdo, ripeto, perché non è assurdo? Chiamare prima H più 1 K e poi richiamare un'altra volta H, perché cambiano gli estremi, mentre qua H andava da 0 fino a N, nella nuova sommatoria H va da 1 a N più 1, quindi quando andate a sostituire i valori vedete che vi trovate, gli addendi sono esattamente gli stessi, metteteci un N basso, andate a scrivere la sommatoria e vedete che vi trovate perfettamente. In realtà, questa è una sostituzione, ma quando facciamo la doppia sostituzione io non sto facendo altro che un'operazione di assegnazione, cioè quello che prima si chiamava H più 1 e adesso mi chiamava H, ok? Quindi non è una vera equazione, quella che in formatica le notate così. Quindi, comunque, l'importante è che questa uguaglianza sia vera. Nel momento in cui questa uguaglianza è vera, qua cosa posso dire? posso dire che qui, adesso, diciamo, queste due sommatorie, i monomi hanno esattamente la stessa espressione. Quello che cambia sono i coefficienti davanti e poi cambia anche che la prima sommatoria è fatta per H che va da 1 fino a N più 1 ma la seconda è fatta per H che va da 0 N, cioè gli estremi non coincidono. Allora, cosa faccio? L'ultimo termine della prima sommatoria e il primo termine della seconda sommatoria ne riscrivo a parte. Allora, l'ultimo termine della seconda sommatoria, quando al posto di H metto N più 1 conviene N, N, ma N, 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 il coefficiente di combinazione di N oggetti ad N a N fa 1. Quindi, mi viene A elevato alla N più 1 per B alla Z. Quindi, poi rimane più sommatoria per H che va da 1 fino a N, 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 H meno 1 per A alla H, B alla N più 1, meno H, più. Adesso qua, quando metto H uguale a 0, N0 fa di nuovo 1, però qua stavolta viene A alla 0 B alla N più 1, quindi stavolta l'altro termine che vi voglio scrivere a parte viene B alla N più 1, più sommatoria, altra volta H uguale a N, stavolta però N, H, A alla H, B alla N più 1, meno H. Allora, a questo punto cosa posso scrivere? Questi due termini scritti a parte me li metto all'inizio, A alla N più 1, più B alla N. Queste due sommatoria adesso sono esattamente identiche tranne per questo coefficiente qua. No, quindi posso scriverle come un'unica sommatoria, somma per H uguale a 1 fino a N, scrivo A alla H, B alla N più 1, meno H, e davanti ci devo mettere N su H meno 1 più N su H. perché questo monomio ha questo coefficiente di qua, questo coefficiente di qua, quando faccio la somma, se voglio scrivere un'unica sommatoria, per questo sommatoria devo fare la somma di qui. quindi mi è rimasta da fare questa sommatoria. Allora, questa sommatoria la posso fare tranquillamente per esercizio qui. Chi è N su H meno 1 più N su H? Allora, questo è uguale a N fattoriale, qua c'è H meno 1 fattoriale, e poi qua c'è N meno H più 1 fattoriale. devo fare N fattoriale, questo fattoriale e poi la differenza non c'è. Più N fattoriale fratto H fattoriale per N meno H fattoriale. Quanto viene questa somma? Allora, al denominatore posso usare H fattoriale, perché sia H meno 1 fattoriale che H fattoriale sono dei divisori di H fattoriale, quindi questo è un multiplo, sia di questo le divido. Tra questi due, quello, diciamo, un multiplo dell'altro è questo, quindi posso usare H fattoriale per N più 1 meno H fattoriale, perché questo è N meno H fattoriale, questo è il fattoriale di un numero uno in più, quindi è quello che prima per N più 1 meno H. Adesso quando vado a fare la somma, devo fare questo diviso questo qua, allora vediamo, questo e questo se ne vanno perché sono uguali, H fattoriale fratto H meno 1 fattoriale fa H, quindi qua mi viene N fattoriale per H, dall'altra parte quando vado a dividere H fattoriale diviso H fattoriale se ne va N più 1 meno H fattoriale fratto N meno H fattoriale fa N più 1 meno H, quindi qua mi viene niente altro che N più 1 meno 1. Adesso semplifico N più 1 più H meno H se ne va, N più 1 per N fattoriale fa esattamente N più 1 fattoriale, e sotto H fattoriale, e sotto H fattoriale per N più 1 fattoriale, 1 meno H fattoriale, allora il tutto a che cosa è uguale? è uguale ad A elevato alla N più 1 più B elevato alla N più 1, più la sommatoria per H che va da 1 fino a N di N più 1 su H, per A alla H di N più 1 meno H, per quale motivo? perché questo numero non è altro che il coefficiente binomial N più 1 su H, perché c'è N più 1 fattoriale e H fattoriale, e poi qua c'è la differenza fattoriale, quindi esattamente N più 1 su H. L'ultimo passaggio è che tutto ciò è uguale alla sommatoria per H che va da 0 ad N più 1, di N più 1 su H per A elevato ad H per B elevato alla N più 1 meno H, per quale motivo? quindi se io qua metto H uguale a 0, mi viene N più 1 su 0 fa 1, A alla 0 fa 1, B alla N più 1, che ce l'avevo qua? se invece metto H uguale a N più 1, N più 1 N più 1 fa 1, qua viene A alla N più 1 per B alla 0, che fa A alla N più 1 che avevo qua, quindi questi due elementi si possono reincorporare nella sommatoria, semplicemente facendo andare la sommatoria per H che va da 0 fino a N più 1, invece che per l'arco che va da meno finale. E dove siamo arrivati? Vedete, se andate a vedere la catena di uguaglianze, noi siamo partiti a cercare di sviluppare A più B elevato alla N più 1, usando la formula del dinamico di Newton che era valida per N. A cosa siamo arrivati? Siamo arrivati a stabilire che A più B alla N più 1 ha esattamente lo stesso tipo di espressione, cioè è la sommatoria per H che va da 0 fino a N più 1 di N più 1 H, che ha A alla HB alla N più 1, cioè è esattamente lo stesso tipo di formula, semplicemente N è stato sostituito con N più 1. Quindi se la formula era vera per un certo N, è vera anche per il successore. e quindi per il teorema di induzione, per il principio di induzione, scusate, la formula è valida per ogni N e quindi il teorema è vero. Ok? Il teorema, insomma, è un esercizio qualificato ma è un esercizio. Ok? Quindi qual'è la differenza rispetto alle formule per N uguale a 2, per N uguale a 3 conoscete dalle superiori? È che questa vale per 2, quella vale per 3, se volete scrivete quella per 4, anche se avete intuito la formula generale, qua la formula generale è scritta per ogni N ed è stata dimostrata. Quindi l'induzione è valida per tutti gli N. quindi adesso quando io dovrò sviluppare A più B elevato alla 10, userò la formula con N uguale a 10 e basta. Chiaro? Ok. Quindi questa cosa bisognava risolverla. Adesso, come esercizi veri e propri, noi ci muoveremo su due direttrici. La prima direttrice, ovviamente, avendo introdotto le successioni, dobbiamo cominciare a vedere un po' di successioni convergenti. allo l'altra direttrice l'anticipo anche se poi dopo faremo prima la successione convergente sarà cominciare a ripassare qualche grafico di funzione elementare anche se non possiamo capire appieno valutare appieno l'importanza del grafico per esempio se andiamo a fare il grafico della funzione seno siamo in grado di farlo perché abbiamo dato più o meno la definizione della funzione seno la possiamo richiamare ancora meglio però non siamo in grado di valutare tutto perché non conosciamo ancora la derivata non conosciamo alcune cose però il grafico lo possiamo tracciare questo lo faremo però diciamo dopo facciamo prima un po' di successione allora un primo esempio l'abbiamo già fatto il limite di 1 su n fa 0 questo l'abbiamo dimostrato se vi ricordate abbiamo dimostrato la lezione l'esempio di qui andiamo a vedere adesso se io faccio il limite l'esempio di 1 su n quadro quanto fa? 0 perché? ci sono due modi di dimostrato allora 1 su n quadro almeno due modi ce ne saranno molti di più in realtà un modo è questo qui 1 su n quadro è uguale a 1 su n per 1 su n allora quando n tende a infinito questo tende a? questo invece tende a? 0 per 0 cosa ho applicato? se no che l'abbiamo fatta a fare? il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti allora questo tende a 0 questo tende a 0 il prodotto tende a 0 e se no la fatica non si fa a caso adesso se io voglio fare il limite di 1 su n alla 7 quanto farà? perché? allora se io voglio fare 1 su n cubo 1 su n cubo tende a 0 perché 1 su n quadro per n 0 per 0 fa 0 1 su n alla 4 tende a 0 perché 1 su n quadro per 1 su n quadro 0 per 0 fa 0 1 su n alla 7 tende a 0 perché 1 su n cubo per 1 su n quadro 0 per 0 quindi agendo ripetutamente con il termine che l'idea che il prodotto 4 è osterissimo ma c'è un altro modo 1 su n quadro in realtà noi sappiamo che vale questa disuguaglianza la stessa disuguaglianza vale per 1 su n alla 7 questa disuguaglianza vale per tutti i n ci devo mettere il minore o uguale perché se ci metto 1 viene uguale però quando n è maggiore di 1 ovviamente è qua cioè il minore stessa quando elevo a n a una potenza maggiore di 1 ovviamente mi aumenta perché sto moltiplicando ripetutamente per n che è il maggiore allora come posso usare queste disuguaglianze per stabilire che 1 su n quadro come 1 su n alla 7 tendono a 0 stavolta non voglio applicare il teorema sul linee del prodotto il teorema di 2 questo tende a 0 0 è una successione costante tende a 0 quella che sta in mezzo deve tendere a 0 o allora se io faccio adesso il limite per n che tende a infinito di 1 su n all'alfa alfa è un parametro per esempio 3 e mezzo mettiamoci mettiamoci proprio n alla 3 e mezzo cerchiamo di non complicare troppo la spesa che vuol dire 1 su n alla 3 e mezzo questo è 1 su n per la radice di n n alla 1 per n alla 1 siete in grado di diciamo stabilire una suguaglianza simile questo sarà più grande di 0 eh certo questo è positivo il reciproco è ancora positivo quindi è maggiore di 0 di che cosa con cosa lo posso invece maggiorare allora la radice quadrata di n io sono sicuro che è più grande di 1 o è 1 o è più grande di 1 se ci metto 1 viene 1 se ci metto un numero più grande di 1 viene più grande di 1 quindi questo qua se ci tocca la radice di n o rimane uguale o diminuisce quindi il reciproco aumenta e quindi lo stesso ragionamento di pd questo tende a 0 questo tende a 0 quello è meno tende a 0 quindi anche se ci metto 3 mezzi tende a 0 se lo volevamo fare con la definizione si può fare per esempio andiamo a dimostrare con la definizione che il limite di 1 su n quadro vale 0 parto da qua allora devo dire sia epsilon maggiore di 0 1 su n quadro è minore di epsilon se solo se n quadro è maggiore di 1 su epsilon se solo se n è maggiore di 1 sulla radice di epsilon quindi prendo quindi prendo ni uguale alla parte intera di 1 sulla radice di epsilon più 1 allora se n è maggiore o uguale di ni allora n è maggiore di 1 sulla radice di epsilon che significa che 1 su n quadro è compreso tra epsilon e 0 che è esattamente la definizione di successione però ammetterete che sia un ragionamento non dico complesso però articolato quindi devo spiegare due righe di ragionamento per fare una cosa che non serve perché io già so che 1 su n quadro 1 su n per 1 su n 1 su n tende a 0 0 per 0 cioè e ciò ho fatto il ragionamento ieri mattina cioè la teoria serve però va dimostrata cioè io dimostro il teorema sulle proprietà algebiche dei limiti e poi lo applico qua addirittura potevo applicare quello oppure potevo applicare il teorema dei due carabini vediamo un po' andiamo a fare il limite cancelliamo qui andiamo a fare stavolta stavolta il limite di 1 fratto la radice quadrata di n quanto fa questo limite? dimostrato stavolta non posso usare il teorema due carabini perché 1 sulla radice di n è più grande di uno sui n allora c'ho sempre la possibilità di andare con la definizione però non la voglio usare c'è un modo di dimostrare che questo limite fa 0 senza usare il ragionamento diretti cioè usando la definizione di successione convergente allora la risposta è sì ci sta un modo allora qual è 1 sulla radice di n più 1 è minore di 1 sulla radice di n questo però c'è un modo di ogni n e questo è sempre il maggiore di fungione cioè cosa fa questa successione mano mano che aumenta n scende allora noi non l'abbiamo dimostrato perché non l'abbiamo fatto in tempo ieri però questa qua è una successione si dice 1 sulla radice di n si mette una freccia in basso si dice è una successione monotona decrescente che significa esattamente questo scende però è limitata dal basso cioè scende 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 ma sotto a 0 non ci può scendere ora questo non dimostra che il limite faccia 0 perché potrebbe scendere si ferma a 1 no? cioè tu scendi verso 0 stai con l'ascensore scende verso 0 ti fermi a 1 però se una cosa scende 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 ed è limitata dal basso giovedì dimostriamo che il limite esiste quindi noi sappiamo che questo limite esiste tutte le successioni monotone limitate il limite ce l'hanno questo qua lo dimostriamo giovedì ma lo cominciamo a usare già adesso si chiama il teorema di regolarità delle successioni monotone quindi noi sappiamo che questo limite esiste ora la mia domanda è sapendo che questo limite esiste mi sapete dimostrare che fa 0? allora 1 su n a chi è uguale? è uguale a 1 sulla radice di n per 1 sulla radice di n allora questo tende a 0 questo tende a L questo tende a L quindi 0 deve essere uguale a L4 conoscete voi i numeri che elevate al quadrato che hanno 0 ci sta solo 0 ok questo implica che L è chiaro? il ragionamento quindi per non rifare io posso anche dimostrarlo direttamente posso dire sia epsilon maggiore di 0 allora 1 su radice di n che sicuramente è maggiore di 0 è minore di epsilon se solo se radice di n è maggiore di 1 su epsilon se solo se n è maggiore di 1 su epsilon quadro quindi io prendo n quadro la parte intera di 1 su epsilon quadro più 1 se n è più grande di n allora 1 su radice di n è completo tra epsilon e 0 però qual è il problema di questo approccio e che ogni volta mi devo rifare il ragionamento e poi io l'avo su fare senza impicciarmi voi pure però non ci credo fino a già alcuni di voi si invece qua però attenzione che anche qua il ragionamento non è stato proprio liscio 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 mentre prima era facile e io il limite prodotto per prodotto di limite oppure tra le due della b limite qua no qua ho dovuto dire prima il limite esiste poi se esiste fate attenzione che è un passaggio non banale prima devo sapere che esiste poi se esiste fate chiaro? allora se lo voglio fare con la radice cubica non cambia niente semplicemente bisogna applicarlo tre volte alla radice cubica di n allora la radice cubica di n ha la stessa proprietà non è la stessa successione la radice quadrata di n la radice quadrata di 2 la radice quadrata di 1 il reciproco della radice quadrata di 2 il reciproco della radice quadrata di 3 il reciproco della radice quadrata di 4 scendo se lo faccio con la radice cubica i numeri i terminatori saranno più piccoli quindi questa successione scende si dice più lentamente però sempre scende se faccio la radice cubica di 2 farà 1,2 la radice cubica di 3 farà quello che è faccio i reciproci e vedo che il reciproco della radice cubica di n più 1 è più piccolo n più 1 è più grande di n la radice cubica di questo è più grande della radice cubica di questo il reciproco è più piccolo di questo quindi quella è una successione monotona è limitata dal basso perché a 0 diciamo è sempre positiva quindi è sempre maggiore di 0 e quindi ha un limite a L dopodiché se questo tende a L questo tende a L questo tende a L il prodotto di questi tre ma il prodotto di questi tre chi è? 1 su n n all'1 per n all'1 per n all'1 fa n e quindi L per L per L fa L cubo deve fare 0 ma se L cubo deve fare 0 L è l'1 chiaro? quindi cosa possiamo dire? facciamo un riassunto prendiamo sia k appartenente a n fisso adesso faccio il limite per n che tende a infinito di 1 su n all'k quanto fa? 0 qualunque sia k k2 k3 k5 sempre 0 perché si tratta di applicare non questo quello di prima il problema sul limite del prodotto invece di 2 volte k però noi abbiamo dimostrato anche un'altra cosa che il limite per n che tende a infinito di 1 fratto n alla 1 su k quanto fa? 0 perché questa successione scende allora il limite lo chiamate L però se rifate questo ragionamento che cosa otterrete? che invece di avere L cubo uguale 0 avrete L alla k uguale a 0 ma se la k è uguale a 0 è uguale a 0 è la stessa cosa di prima però con k quindi noi sappiamo che queste successioni tendono a 0 e se ci metto e se ci metto il limite per n che tende a infinito di 1 su n alla alfa dove alfa è un parametro reale fissato posso dire che fa 0 eh dipende aspetta posso dire che fa 0 quando quando sicuramente alfa è maggiore di 0 in realtà questo è solo sempre però a noi ci interessa questa implicazione qua siamo in grado di dimostrare questa implicazione vabbè anche l'altra non la vogliamo esaminare perché non vogliamo parlare di successioni divergenti se alfa è minore di 0 succede che questa successione è divergente positivamente perché siete in grado di mostrarlo? no alfa maggiore di 0 se alfa è uguale a 0 n alla alfa fa 1 1 su 1 tende a 1 ripeto di successioni divergenti non ci interessa mi interessa sapere che siate in grado di dimostrare che se alfa è positivo questa tende a 0 quindi interessa questa implicazione qua alfa te lo dico io che è positivo scriviamo qua alfa positivo ora sei in grado di dimostrare che quello tende a 0 allora se alfa è positivo allora qua sta 0 qua sta alfa ci sarà un 1 su k qua in mezzo per forza perché 1 su n tende a 0 alfa è fisso da un certo punto in poi 1 su n è minore di alfa quindi quindi esiste k naturale tale che 1 su k è minore di alfa che è maggiore di 0 allora che vuol dire chi è più grande n alla alfa o n alla 1 su k allora n alla alfa lo posso scrivere come questo per n alla alfa meno 1 su k ora questo esponente è positivo e quindi vuol dire che questo numero è maggiore o quale di 1 quindi sicuramente possiamo dire che questo è maggiore quando passo al reciproco lo scrivo qua sopra 1 su n alla alfa è più piccolo di 1 su n alla 1 sul k ma dall'altro k è maggiore di 0 quindi adesso applicate due arrabbiini e questo tende a 0 questo tende a 0 e quindi questo quindi in realtà il reciproco di una potenza di un numero naturale tende sempre a 0 basta che la potenza sia così abbia un esponente quindi 1 su n tende a 0 1 su n quadro tende a 0 1 su n cubo tende a 0 ma anche 1 su radice di n tende a 0 1 su radice di n cubica di n tende a 0 1 su n alla alfa qualunque sia alfa tende a 0 però alfa deve essere così se alfa non è positivo vedremo poi che non succede se alfa viene a 0 la successione tende a 1 se alfa è minore di 0 la successione divergerà ma questo lo vedremo quando parleremo di successioni divergenti ok adesso ne voglio fare ancora una prima della pausa una un po' più difficile grazie a tutti 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 andiamo a fare 1 più 2 su radice di n elevato alla n perciò perciò ho fatto perciò ho fatto il binario di noi che poi mi serviva allora questo che cos'è? questo lo posso scrivere come somma per h che va da 0 fino a n di n su h 1 elevato diciamo 2 su radice di n elevato ad h e basta perché poi devo scrivere per 1 elevato alla n meno h ma 1 elevato a qualunque cosa proprio però io non voglio scrivere tutti i termini voglio scrivere solo i primi termini allora quando h è uguale a 0 n è 0 quanto fa il coefficiente binomial il primo elemento della riga e l'ennesima nel primo del triangolo dei dattagli fa 1 quindi 2 su radice di n elevato alla 0 fa 1 quindi il primo termine è 1 insomma sarebbe 1 alla n fa 1 più il secondo termine quanto fa n1 fa n se vi ricordate per 2 su radice di n che però si va bene mi dice già intanto che questa cosa viene più grande di 2 su 2 radice di n questo termine qua è più grande di questo terzo termine n per n-1 mezzi n2 per 4 su n perché devo fare 2 su radice di n al quadrato e poi gli altri non mi interessano posso scrivere così perché tanto gli altri termini sono tutti positivi se li trascuro la disuguaglianza rimane vera adesso posso scrivere questo lo trascuro altrettamente quindi maggiore di 1 più quasi simplifico n n se ne va 4 su 2 fa 2 per n meno quanto viene 2n meno 1 che è maggiore o uguale di n è sicuro che è più grande perché anche se n fosse 1 2 meno 1 qua il doppio di n meno 1 sembra maggiore o uguale per ogni numeratore adesso andate a fare questo limite che cosa accende a tutta questa cosa limite della radice ennesima di n quanto fa allora che cosa vuol dire radice ennesima di n un numero che elevato alla n debba fare n quindi chi sono gli aventi questa successione la radice quadrata di 2 la radice cubica di 3 la radice quarta di 4 la radice quinta di 5 e così io dico che la radice ennesima di n è sempre più grande di 1 se ci metto 1 viene 1 se ci metto 2 viene la radice quadrata di 2 che fa 1,4 se ci metto 3 viene la radice cubica di 3 comunque viene la radice qualunque questa sia ma di un numero più grande di 1 quindi non può venire un numero minore di 1 chiaro viene la radice con cubica quarta quinta sesta quello che volete voi ma di un numero più grande però dico anche che questo è minore di 1 più 2 sulla radice di n e perché che significa che questo è più piccolo di questo elevando alla n siccome i numeri sono positivi ed n è un numero intero base più grande corrisponde al risultato più grande quindi quando elevo questo alla n quanto fa? allora la radice ennesima di n elevata alla n fa n la radice la radice più 2 sulla radice di n elevato alla n è più grande di n abbiamo visto prima quindi chi sarà più grande questa base o questa base se elevati alla n se elevando alla n questo mi da n elevando alla n questo mi da un numero più grande è ovvio che la base è più grande elevare alla n significa moltiplicare più volte allora moltiplicando per un numero più grande si otterrà il numero più grande abbiamo finito perché quando faccio tendere a n infinito 1 tende a questo tende pure a 1 perché radice ennesima di n 1 sulla radice ennesima di n 1 sulla radice di n tende a abbiamo visto qui 2 sulla radice di n 2 per 0 0 1 più 2 sulla radice di n 1 più 0 allora questo tende a 1 questo tende a 1 fuori in mezzo quindi come vedete questo era più difficile ma come vedete quelli che abbiamo mostrato ieri mattina sono metodi potenti cioè utilizzando quei metodi noi siamo in grado di dimostrare che tante successioni hanno limite capolari ora questa era difficile questa era più difficile però intanto abbiamo fissato le idee 1 su n all'alfa tende a 0 quando alfa è positivo poi abbiamo visto la radice di n per quale motivo qua non è per nulla scontato che questa a guardarla così non è ovvio che questa qui avesse cambiato perché 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 quando n aumenta all'inizio questa successione aumenta n uguale a 1 vale 1 n uguale a 2 vale la radice quadrata di 2 che è più grande n uguale a 3 vale la radice cubica di 3 che è più grande chi è più grande vediamo un po' se siete capaci chi è più grande questa o questa come si fa allora elevato alla 6 elevando alla 6 qua viene 2 alla 3 qua viene 3 alla 2 perché questo è 3 alla 1 terzo questo alla 6 è uguale a 2 questo qua alla 6 allora chi è più grande 3 alla 2 o 2 alla 3 che è 9 questo qua quindi chi è più grande la radice quadrata di 2 o la radice cubica di 3 se elevando alla 6 è più grande questo vuol dire che la base è più grande allora andiamo a vedere chi è più grande la radice cubica di 3 o la radice quarta di 4 la radice quadrata di 4 è la radice quadrata di 2 e quindi non è che ci vuole chi è più grande la radice quadrata di 4 o la radice quinta di 5 e qua dobbiamo elevare alla 20 quando viene 4 alla 5 4 alla 5 fa 1024 e poi viene 5 alla 4 5 al quadrata fa 25 5 alla 4 fa 625 quindi la radice quadrata di 4 quindi la radice quadrata di 4 che succede come fa questa successione probabilmente anche se non l'abbiamo dimostrato fino a 3 aumenti poi da 3 in poi comincia a scendere e che fa? tende a 1 tende a 1 noi abbiamo dimostrato che è monotona non l'abbiamo dimostrato però l'abbiamo dimostrato che è compresa da questa e questa allora se è compresa da questa e questa questa tende a 1 questa tende a 1 può stare in mezzo e tende a 2 vedete che il teorema del confronto o dei due carabinieri che se si voglia serve? ok sommiamoci un'altra